Heidegger dice bene, finalmente uno che ha capito poi naturalmente come fa ogni filosofo tedesco dice sì, ha capito ma al tempo stesso non ha capito niente e c'è proprio negli appunti di lettura di Heidegger rispetto a Jung c'è sempre la blending l'accecamento questo vede e al tempo stesso è cieco che cosa vuol dire? vuol dire che qui vede questo libro del 32 di Ernst Jung è un libro importante perché insomma c'è una forte intuizione che è questa è tutta una serie di rovesciamenti non è più il soggetto che lavora ma è il lavoro che crea il soggetto non c'è più l'uomo che imprime una forma sul mondo ma è il mondo meccanizzato che imprime la forma sull'uomo certamente c'è l'idea ecco c'è l'idea che non si sta andando allora i critici della civiltà di carattere liberale questo io un Ortega e i Gasset alla stessa altezza cronologica dicevano sostanzialmente signora mia dove andremo a finire cioè vedevano nella meccanizzazione dell'Europa negli anni 10 20 e 30 vedevano soltanto disordine qui invece c'è l'idea che quello che si forma è un ordine un ordine nuovo solo non è più umano cioè la forma c'è la gestalt c'è solo l'ha fatta la tecnica e l'arbeiter il lavoratore che Cantimori voleva il giovane Cantimori che era fascista con forti simpatie per la Germania diciamo così voleva tradurre con milite del lavoro e non era neanche una cattiva tradizione cioè vuol dire il lavoro è violenza perché il lavoro è tecnica e questa violenza non è è distrugitrice certamente ma al tempo stesso è produttrice di un ordine nuovo certo un ordine che è una turbina che funziona con sangue certo è un ordine anche quello si capisce che cosa sta succedendo non era quello che credevamo di volere ma è quello che succede l'arbeiter non è un individuo ma è lo dice un titano per cui è ambiguo su questo Ernst di Unger non si capisce bene se sta dicendo che l'arbeiter non conta niente perché è soltanto un grosso ingranaggio oppure come a volte gli scappa detto è l'arbeiter che dà senso a tutto quanto oscilla come oscilla in un testo bellissimo con un brevissimo raccontino di poche pagine messo in un libro suo molto bello che si intitola Il cuore avventuroso la cui seconda edizione del 38 c'è questo saggetto che si intitola Il canto delle macchine che è fenomenale perché c'è la descrizione di un laboratorio di notte non c'è l'uomo e questo laboratorio è pieno di macchine di strumenti di quadranti di antenne che da cui esce un ronzio una luce che sembra che queste macchine appunto abbiano una autonomia parlino cantino ecco cioè l'uomo è scomparso e ci sono queste le macchine che dicono una lingua che non è più comprensibile per l'uomo ebbene alla fine di questo raccontino dice Hans de Honger il canto delle macchine ci afferra riempiendoci dell'orgoglio del vincitore chi è il vincitore sono le macchine che hanno vinto o è l'uomo che le ha costruite ed è diventato esso stesso una macchina e in questo modo ha perduto la propria umanità ma ha vinto perché infatti Heidegger che era un po' più che intelligente lo capisce subito che qui c'è una debolezza concettuale cioè dice Ernst de Honger bravissimo cieco perché parla il linguaggio del secolo e ancora è dentro la trasformazione della parola in acciaio certo però è ancora lì che pensa che questo sia una tappa di una storia cioè è ancora immerso nello storicismo pensa che se ne verrà fuori e infatti nel famoso libretto del 1950 Iberdilini sulla linea Jung parla di Iberwindung superamento sì adesso ci siamo siamo al punto zero siamo al muro del tempo siamo sul meridiano zero ma ne veniamo fuori perché ma non merito nostro perché tutto quello che sta succedendo è l'automovimento della terra qui c'è Goethe dietro la quale nell'automovimento è come un serpente che si è rivestita di squame d'acciaio ma poi la pelle la cambia alla Iberwindung Heidegger contrappone la Fervindung in un libro di risposta che si intitola La questione dell'essere Zurseinsfrage non si va da nessuna non c'è movimento non c'è un progresso tu hai visto una cosa ma pensi che questa sia una tappa no questa è una fine questa è una fine è la fine della metafisica guarda dove è andata a finire dove doveva andare a finire nella volontà di potenza dispiegata nella tecnica nell'americanismo nel fordismo da cui nazismo e comunismo sono la stessa cosa del capitalismo bene Fervindung l'approfondimento e poi la remissione la remissione ma non devi fare niente vedete è proprio la filosofia che muore cioè la filosofia non indica la prassi non dice più devi stare in questo mondo Hegel avrebbe detto stare nella contraddizione so che per Hegel la contraddizione aveva in sé l'energia del superamento qui c'è una contraddizione nella quale si sprofonda e basta poi ci penserà l'essere a manifestarsi come quando vorrà in una radura cioè in questo in un aperto che non creiamo noi non veniamo fuori noi dal buco di talpa in cui ci siamo infilati in Heidegger c'è proprio la fine della filosofia e la tecnica come vedete è caricata di significati potentissimi cioè che cosa è essere che cosa è nulla lo capisci a partire dalla tecnica il destino dell'Occidente lo capisci a partire dalla tecnica qui non a caso questi se la prima con Platone che adoperava la parola tecnica sia per fare i vasi sia per il filosofo che porta l'uomo alla propria umanità tutta è tecnica la nostra idea di governare la tecnica verrebbe derisa da Heidegger cosa vuoi governare la tecnica che governa te cosa credi quando ci fu una crisi una delle molte crisi dei missili i sovietici montarono gli SS-20 che a qualche anno se lo ricordo i giovani non sa neanche di cosa sto parlando io mi ricordo che chiesi a uno che se lo intendeva ma perché hanno costruito gli SS-20 che razza di idea cioè missili di raggio intermedio c'erano i missili balistici intercontinentali e i missili invece tattici è veramente una mossa destabilizzante aver costruito gli SS-20 con il raggio di 3-4 mila chilometri con i quali minacciavano l'Europa risposta gli sono cresciuti degli stadi intermedi dei vettori balistici intercontinentali non sapevano che cosa fare se hanno fatto gli SS-20 la tecnica che aveva generato insomma una brutta una brutta crisi con la quale gli americani risposero piantando i missili Pershing in Germania i missili Cruz in Italia e allora poi ci fu un reciproco smantellamento perché? perché gli erano cresciuti degli stadi interventi per non sapere che cosa fare col cascami della tecnica facciamo insomma una discreta minaccia all'Europa governare la tecnica quindi qui è impossibile queste prospettive tutti coloro che oggi pensano al ritorno alla natura per scavalcare la tecnica sui problemi si muovono all'interno di una posizione di posizioni teoriche altissime che di solito non sospettano nemmeno sono posizioni ipercritiche super radicali che sono quasi degli esperimenti mentali gli esperimenti che invece qualcuno prende immediatamente sul serio generando ipotesi neoludistiche decrescite e cose del genere cioè una semplificazione di problemi e di posizioni io e chiudo vi dico questo beh l'ho già detto affrontato così la tecnica è una questione insolubile perché diventa la questione dell'essere e se la prendi sul serio ti devi fermare e lasciare che le cose vadano avanti cose che non ha senso sostanzialmente messa così cioè se la tecnica diventa un'ipotesi assolutamente autonoma rispetto ad ogni dato empirico è il modo d'essere nel mondo dell'uomo e allora sarà anche quel modo d'essere nel mondo sarà anche problematico ma non riusciamo a rovesciarlo vero? E del resto l'ipotesi che esista una natura vergine con cui possiamo riconciliarci purché buttiamo via la tecnica beh la volta che hai mal di denti vedrà che ti viene voglia di avere un analgesico è un modo di porre la questione che è assolutamente inevitabile se tu parli di tecnica senza parlare e ti accorgi ecco ti accorgi che la tecnica è veicolo di dominio che la tecnica è una realtà in cui si manifesta un potere che è al tempo stesso umano e sovrumano beh no se non se non riesci a vedere che il dominio della tecnica è un dominio nel quale si coagulano molte altre forme di dominio compreso il dominio economico non vai da nessuno in realtà quello che noi qualcuno patisce della tecnica è in ultima analisi il fatto che attraverso di essa si massimizza un rapporto di potere non della tecnica sull'uomo ma neanche per idea dell'uomo sull'uomo ecco basta andare a vedere a grattar via non trovi la natura intatta che la tecnica avrebbe conculcato se grattivi la tecnica trovi il proprietario della piattaforma trovi il proprietario dell'impresa e allora tutto torna a essere un pochino più comprensibile e un pochino più gestibile perché contro la tecnica non vai contro un proprietario di imprese insomma un margine di azione se vuoi ce l'hai ecco che la tecnica è diventata da ambito strumentale l'arcano dell'essere ed l'arcano dell'essere può essere riportata ad essere una delle figure attraverso le quali si manifesta l'arcano del capitalismo che ormai non vediamo più non lo vediamo non lo vediamo e vediamo soltanto i suoi prodotti tecnici e ci accorgiamo del dominio che quei prodotti tecnici esercitano su di noi e diamo la colpa alla tecnica in realtà la tecnica non è altro che il raccoglitore la spugna che assorbe la forma fondamentale del dominio che insomma secondo me è ancora una forma del lavoro subalterno diciamo altrimenti il problema è impostato come problema della tecnica a solo la soluzione idegeriana cioè la soluzione non è in mano nostra lì c'è un destino che deve consumarsi sgradevole ipotesi rispetto alla quale è più gradevole l'ipotesi che dietro la tecnica ci sia non l'eraclito perduto ma un un robusto capitalista vi ringrazio per l'attenzione